E' solo un contrasto di colori, eccezionale. ...quanto deve rimanere. Faccio concorrenza io. Caspita, guarda, è incredibile, sembra... Io sono andato a vedere se c'erano le luci dietro, perché è incredibile. E' bellissimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Eh sì, grazie. Molto, molto grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Questa non l'ho fatta con una mirror, la stessa non l'ho fatta e devo farne un po' sul suo letto, magari la ripuccio oppure faccio diverse cose. Magari adesso non ricordo di prima, ma quando ho fatto questa abbiamo fatto l'arte, poi vediamo la luce, proviamo a girarla, cambiamo la posizione. Grazie.